Om Shanti Om Shanti Murali का सार है मेठे बच्चे बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरिशार्थ कराओं जैसे खुद नौलेश्फुल बने हो ऐसे औरों को भी बनाते रहों प्रश्ण है तुम बच्चों को अभी किस स्मृती में रहना है स्मृती की कमाल क्या है उत्तर है तुम्हें अभी बीज और जहाड की जो नौलेश्फ मिली है उस नौलेश्फ की स्मृती में रहना है इस स्मृती से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हों यही है स्मृती की कमाल बाप बच्चों को स्मृती दिलाते है बच्चे स्मृती आई तुमने आधा कल्प बहुत भक्ती की है अब मैं तुम्हें भक्ती का फल देने आया हूँ तुम फिर से वैखुंट का मालिक बनते हों जैसे बाप मेठा है ऐसे बाप की नौलेज भी मेठी है जिसका सिमरण कर सिमर सिमर सुख पाना है गीत है जाग सजनिया जाग उम्शंत मिठे मिठे बच्चों ने गीत सुना आज दीप माला है दीप माला कहा जाता है नए युग को सत्युग में कोई दीप माला नहीं मनाई जाती क्योंकि वहा सभी की आत्मा रूपी जोती जगी हुई होती है बच्च जानते हैं कि हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरिशार्थ कर रहे हैं श्रिमत पर तुम अभी त्रिकाल दर्शी बने हो त्रिकाल दर्शी कहा जाता है पास्ट, प्रेजन्ट, फ्यूचर को जानने वाले को तुमको अब तीनों कालों की नौलेज है तो तुमको औरों को भी समझाना है खुद भी काटों से फूल बनते हो औरों को भी बनाना है पास्ट की हिस्ट्री जोग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वह भी जान जाते हो फ्यूचर को जानने से पास्ट, प्रेजन्ट को भी जान जाते हो इसको कहा जाता है नौलेजफुल पास्ट था कलियुग, प्रेजन्ट है संगम युग Poi, il futuro è stato sattito di rita, quindi tu hai ragione di questo chakra che conoscevano, e non è il mondo inizia per andare inizia, e tu hai ragione, 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 e tu hai ragione. 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 Sì, Raja I me Sukh Nahi Yoh hai Brashtachari Dunia Vohthi Srishtachari Dunia Bapkeh Teh Hai Dekho Tumko Kitana Samajdara Bana Teh Bapkeh Kaha Jata Hai Triloki Nath Triloki Ke Malik Nahi Bantai Unmai Knowledge Hai Tumko Vekhunthaka Malik Bana Teh Hai Tumko Kitniki Khushi Hone Chaiye Adha Kalp Tumne Bhakti Khi Ab Bap Mila Hai Bap Ab Smriti Dilate Hai Keheti Hai Simro Kisiko Bapko Bapkeh Rachanaki Knowledge Bij or Jhaad Is Smriti Se Tum Chakravarti Raja Bane Jate Ho Dekho Smriti Ki Kamal Kya Se Kya Bana Tee Hai Bapkeh Rachanaki quindi ci sono state di farcana che ci siamo barristerti ci sono state di farcana, ci sono stato di farcana, poi di farcana, ora è stato di farcana, l'autore dei bambini, l'autore c'e, si sono stato intanto, poi ci sono state di farcana, Grazie a tutti. 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 , , , ,... ,... ,...,...,...,..., o Sampurna, toh Complainte Samaapta Kero Samaaj ki baat Toh kitnì bada bhaagya ki baat Khi Godli student life Mili hai Toh kaha ka rona Kyo rona Kya rona Baba Kethe Kaisi rona Zarruti nahi rone ki Acche se jeevan chal raha Svobhagya se jeevan chal raha Kyo rona Samaaj ki baat hai Jab tak jina hai Padhai roze padhani hai Murli kabhi miss nai karni hai Dekhi dho prakara ke bachche hote Eek bachche Jinné khud se Padhai se piyar hota hai Dousere bachche Jab baab bataayega Jab tak jina hai Padhai roze padhani hai Tab ho bachche murli karenge Padhai padhenge Padhai padhani hai Padhai se piyar nahi hai Voh nemi naath hai Unhe koi realization Nain hai Kyi hum kaha hai Humari life kawansi hai Godly student ki Padhai nahi unhe Unhe jab baap murli me Yad karayega Tab ho padhai par dhyan denge Voh us may be Unha ka lakshan Dekhna hai na Dho chara dhin Acha chalenge Chote pachovay dhin Gir jayenge Ye dhusere nambar ke bachche Nemi naath Jab baap bataayega Tab karenge Kud isse naihi karenge O Kud isse unhe koi Lena dhena naihi hai Jab baap yad karayega Bachche yog karna hai Ha ha Aaj karte sham Aisse bachche Baba kate aapne kuchhe Karo tum korn Tumhye sach me Padhai se piyar hai Murli se piyar hai Murli baap hai Baap ke vachan hai Ek bachche hote Isme bhi Jinn ke pats Jinnye samayi mila hai Isliye murli padhenge Murli sunenge Dhusere bachche Samayi nikalke Murli padhenge Or murli sunenge Tum korn ho chek karna Samayi nikalke Unki khiech Murli ki taraf hoti Apanne roze ke Rutein mein Samayi nikalne ki Košish karenge Bade piyar se Or murli padhne Ya sunne baihthenge Or ek Jinnye samayi mila Abhi kya karai Hai samayi Adha gandha E gandha Chalo murli padhete Murli sunte Murni ko bhi Inho ne Time pass Mene Đala Jaisi bhout Se Dunia meh bachche Hote Hote Jinnke Pahas Bahut Samayi Hote Hote Tau smoch Te空 Time Tau s hoch quel Kya karayi Koyi Mobil Lle sixth Koyi Llehis Lleip Koyi si posso fare una foto si posso fare qualcosa di più che quello stesso ce l' presente è allora ora ora è un buro per l'escrizione albiettivo si non beccano quindi non fare un buro che non fare un buro la spesa che parlano quindi tuông è il buone tu lo vediamo ad ascoltare ci sono anche chi ci dice che dice 5-10 mesi marlì k Uriniki casa il fatto di la parola lui il 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 per l'abbia per l'abbia tu sei tu che per l'abbia la vita di student life molto grande la sua la sua è il bambino dice la vita di student life per l'abbia per l'abbia per l'abbia per l'abbia l'abbia la sua l'abbia una l'abbia la sua la sua l'abbia ad l'abbia 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 Diparaj Bapke Satt, Laggna Hi Saccchi Dipavali Hai, Giuse Dipak Me Agani Hotei Hai, Aisè Aap Dipakomem Laggna Ki Agani Hai, Giuse Settacchi Dipavali Hai, Agyanata Ka Andhkari Dour Ho Taa Hai, Lohg Too Dipavali Par Mitti Ka Stool Dipak Jagaate Hai, Lekin Aap Chaitanya Dipak, Kulke Dipak, Aar Baap Dada Ki Aashaho Ke Dipak Ho, Aapke Ekaras Atal, Adol, Jaghe Hooye Dipak Se, Jab Aneak Dipak Jaghe Jayaenge, Tab Saccchi Dipavali Ho Ghi, Baba Kehete, Cheek Karo, Bacche Jaghe Hai, Tum Jaghe Hoonga, Too Jaghaenghe, Jaghaana Nih Padhega, Subheh Jho Jaldi Uttata Hai, Wohh Eeg Samae Honne Per, Dousro Koe Uttata Hai, Jho Jaghe Jata Hai, Wohh Dousro Koe Jagaayega Hai, Aasahan Gyan Ko, Toh Samaajne Mehe Badi Kathinai Ho Tia, Dhyan Mehe Rakhna, Jho Sehaz Ho Ta Hai, Ussse Samaajne Mehe Badi Kathin Ho Taa Hai, Kis 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 Udharan Ko Lekar Samaajna Hai, Kaisa Samaajana Hai, Tum Aatma Ho, Aagar Yhe Tumhe Samaajne Nih Aha Raha Hai, Bohut Sari Bata Bata Nih Ke Baad, Aar Tum Anubhav Nih Kar Paar, Tum Pagalp Khane Mehe Jho Paad Baja Raha Hai, Aar Tum, Ussse Mehe Koei Antar Nih Hai, Koei Antar Nih Hai, Tum Dounou Mehe, Samaajh Ki Baat Hai, Kitna Aasahan Gyan Hai Tum Atma Ho, Samaajho Ise, Jago, Jagoinghe, Tum Dousro Koe Jagainghe, Varnah Sote Hi Rahenghe, Jab-jab Tum Upar Niche Hote O, Sthiti Ko Lekar, Tumhari Aatma Tumhare Shariir Mehe Nih Hai, Varnah Tum Tumhare Shariir Mehe Nih Ho, Maya Aake Bethi Hai, Baba Kertai Karnan Kuch Bhi Ho, Gyani Ho Na, Kiyya Sangam Yug Hai, Kari Sabar Raha Ma Hai, Tuh Jab-bhi Tum Upar Niche Hote Ho, Tumhari Shariir Mehe Tumhari Aatma Nih Hai, stiamo richando ora chi fa fare quindi chi non è il suo stitito non è il suo paramento non è il suo paramento perché non è il suo paramento non è il suo paramento il suo paramento ci sono paramento questo paramento questo paramento è il suo paramento dice che gli agav slogan è si conoscire il suo amore lo so che i nostri i nostri spaziani si non diventa se forchà, tu sirvi di rispondenza, ci si si forchà di rispondenza, si forchà di rispondenza. C'è quella che si chiama il paziente, ti esico al paziente, ti esico al paziente. Si si richi suono, non c'è una cosa che Europa, questo è la cosa che sta bene. Il fatto che il tempo fa tutte, il manner più che si il movimento delle cose molto bene, realiziamo il quattro cuant'osci si facciamo per non molto dall'ecchino non fa lo isco su capito 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 savi capito devo dire che sanno c'è un problema, ma tu hai toccato il mio lavoro, ma tu hai toccato il mio lavoro. O che tu hai fatto, tu hai fatto, tu hai fatto un figlio, ma tu hai fatto un figlio, ma tu hai fatto un figlio, ma tu hai fatto un figlio, non è tutto, ma come anderti? E come si èonenso, quando dice che la sua menata è Dada, imitare il amrita, deve fare il amrita e fare il demore molto bene. No, noi dobbiamo fare il amore, per vedere, non dobbiamo fare il amore, per rivevole da loro, credo che la mia. Ma, non vede a la sua menata, e questo è quello che dice, sa bene che il amore, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.